Ma è giusto che ci sia un dibattito, che quindi si cerchi attraverso il confronto democratico la soluzione migliore. Tutti i motivi di preoccupazione sono infondati, poi il resto, vabbè, Lettieri insomma utilizza una propaganda vuota, quindi non merita sotto questo punto di vista nell'attacco virulento che ha fatto risposta, merita invece attenzione alla preoccupazione dei cittadini dove infatti bisogna andare, bisogna raccontare quello che si sta facendo. Si sta facendo un investimento importante, un investimento importante che punta anche a un processo di reindustrializzazione dei nostri territori. Quel territorio là in questi anni è stato soprattutto degrado, sono stati fumi tossici, sono state giuste proteste dei cittadini che non vedevano l'asse mediano che si riapriva. Con quest'opera che cosa si va a fare? Innanzitutto non c'è nessun rischio di impatto ambientale, non ci sono cattivi odori, non c'è inquinamento, non c'è nulla perché si è riaggiunto il più alto livello tecnologico attualmente esistente nel mondo. È un impianto di ridotte dimensioni perché fa fronte a 20.000 tonnellate annue, pensate che ha un'altezza di 3 metri, quindi è più basso di questo soffitto, consentirà una riqualificazione in verde di tutta l'area, aprirà l'asse mediano, ci sarà una risistemazione della comunità Rom, si creeranno posti di lavoro, l'umido che verrà prodotto verrà in gran parte utilizzato nell'area di Scampia e nell'area nord e piccoli impianti di questo tipo saranno realizzati e quindi non è che Scampia viene scelta per un fatto discriminatore, anzi posti di lavoro, qualità, appena 4-5 automezzi al giorno che passeranno per l'asse mediano e quindi non attraverseranno Scampia come invece accade oggi anche per alcuni mezzi pesanti, quindi ci sarà un decongestionamento e un disinquinamento e poi ci saranno altri piccoli impianti in altre zone dell'area urbana, in questo modo noi diremo, prendendo Napoli e Scampia da esempio, che noi saremo per sempre contro gli inceneritori che vuole lettieri e contro le discariche che hanno consentito chi governa e chi fa politica da tanti anni come lettieri e i suoi amici, quindi è una grande svolta. Se poi da un confronto pubblico tolte le preoccupazioni, possano venire suggerimenti, consigli, proposte che possano ulteriormente migliorare, perché l'impianto non è che si va domani, si deve aprire una gara, i lavori si completeranno sicuramente nei prossimi mesi, noi siamo pronti ad accettare ovviamente qualsiasi suggerimento. Teniamo presente che se non si fanno gli impianti di compostaggio, che significa fare una rivoluzione ambientale, ci saranno le persone che per anni hanno fatto un patto trasversale della politica, degli affari, dove la camorra ci ha molto mangiato, che faranno discariche inceneritori e distruggeranno proprio quei territori che oggi evidentemente Pisani vuole difendere, cioè quello dei fumi tossici, del degrado e dell'assenza di regualificazioni. In questo modo c'è l'impegno personale del sindaco, che quell'impianto non produce nessuna forma di inquinamento, anzi riqualifica, crea posti di lavoro e fa di scampier di Napoli un modello. Su questo apriamo un confronto, il resto è semplicemente quello di voler spaventare una comunità che saprà discernere le cose buone dalle cose sbagliate, invece mi aspetto dalla popolazione eventualmente suggerimenti intelligenti, proposte che siano scefre da strumentalizzazioni politiche, sulle quali noi avremo apertura e intelligenza per andarla ad ascoltare.